Pronto? Oi! Carissimo, ciao! Sì, 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 tutto a posto, tutto a posto! Ci siamo visti l'altro giorno, ma poi non siamo riusciti a incontrarci. Ah, ti sposi? Bellissimo, bellissimo! Quando? Ah, in agosto? Ah, perché i parenti vengono su e quindi... Ah, ok, beh, dai, non farà così tanto caldo. Eh, figurati, vai, ma gli abiti adesso sono anche leggeri, eh? Sì, sì, ah, ah, sono invitato? Ah, sono invitato? Ah, perfetto. Ok, dai, ci sentiamo. Aiuto, pieno agosto, matrimonio. E poi? Cosa mi metto adesso? Mi sa che devo andare da Fabio. Matrimonio in agosto, ragazzi, guardate! Un abito carta da zucchero, quindi un colore estivo, molto chiaro, abbinato in maniera un po' fashion. Camicia blu e cravatta in tono blu, ok? Potete usare anche la camicia bianca, ma così diventerete molto più fashion. Scarpa blu in questo caso e siete pronti per il vostro matrimonio in agosto. 390 euro e avete risolto il problema.